Simona Ventura da D-Squared, un D-Squared meno ginsarolo e più signora, sei stata tu a ispirarli? Io sarei contenta perché è talmente bella la collezione veramente che sarei contenta di averli ispirati, trovo che sia veramente una collezione per una signora giovane, più romantica, cioè meno virago e questa è una cosa importante. Cosa hai individuato che sicuramente indosserai? Ma sicuramente i viola perché adesso mi ha preso questa, non so come... Anche in trasmissione, tu che sei superstiziosa. Infatti ho fatto le tute viola, il viola è stupendo, i neri vabbè quelli vanno sempre bene. Anche in trasmissione, tu che sei superstiziosa. Anche in trasmissione, tu che sei superstiziosa. Anche in trasmissione, tu che sei superstiziosa. Anche in trasmissione, tutta la sua immature, i morre per decorarsi. Grazie a tutti.